E poi io quando sono a casa, quando voglio vedere una partita, io voglio vedere il Barcellona. Cioè, penso quasi tutti noi vogliamo vedere una... Scusa Beppe, perché sei il miglior allenatore. Vicente del Bosque, Spanish, coach for Spain National Football Team. L'allenatore della nazionale spagnola, Vicente del Bosque. Pep Guardiola, spagnolo, allenatore dell'FC Barcelona. José Mourinho, portoghese, allenatore del Real Madrid. Chi sarà il vincitore della FIFA? Tre grandi allenatori, grandissime vittorie tra di loro. Silvia è tornata tra di noi per annunciare il vincitore. Prego, il vincitore è José Mourinho. Sta andando a salutare i suoi giocatori, eh? Maicon, l'abbraccio con Lucio. È in perfetto stile Mourinho, possiamo dirlo Paolo? Sì, assolutamente. Fa parte dell'empatia che lui riesce a creare con i suoi giocatori e che credo sia qualcosa di unico. Ascoltiamolo. Buona notte. Peço desculpa por falar em português, ma sono un orgoglioso português. Queria darvi os parabéns a dois fantasticos treinadores, o Seno Del Bosco e o Pepe Guardiola. Trabalhei muito para chegar aqui, mas não cheguei soltanto. Cheguei com os meus jogadores, a Del Bosco e Guardiola. Cheguei com os meus colaboradores. Cheguei principalmente com a força, de todos os que me amam e daqueles que me esperam para festeggiar este momento fantastico. Obrigado. E per lui è un premio fantastico. Grazie a tutti, ho voluto ringraziare tutti.